Dalla grande praterie del cielo, una visione mi ha detto che un grande guerriero e spirito errante mi avrebbe aiutato in mia missione. Un uomo che è stato dall'altra parte e tornato. Avrei preferito qualcun altro, ma chi sono io per contraddire il grande padre? D'accordo, ma se cavalchiamo insieme sarà il nome della giustizia. Giustizia è ciò che cerco, chiamo sabè. Immagina un intero continente collegato dalla ferrovia. Ora chiunque controlli questa, controlla il futuro. Un potere che fa di imperatori e re, dei poveri sciocchi. So che avete un problema con gli indiani. Fa ridere? Molto ridere. Non si ottiene niente senza sacrificio. Non serve che ci sia una guerra. Ferma il treno. Oh, questo è un treno che non si ferma. Lo dovresti sapere. Se questi sono gli uomini di legge, sarò un fuorilegge. Quando cavallo di ferro parte, molto difficile da fermare. Molto ridere. Grazie a tutti. Ci siamo persi, vero? Lo sapevo. Potrebbe andare peggio. Peggio? Come potrebbe andare peggio? Ora va peggio.